Assessore, un altro grande appuntamento di sport a Pescara ai campionati italiani individuali di marcia? Sì, da Assessore allo sport sono molto soddisfatta. Pescara apre l'anno 2022 con un grande appuntamento sportivo. Parliamo dei campionati italiani assoluti di marcia uomini e donne, che si terranno domenica 16 gennaio nei pressi dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Un grande evento, molto atteso la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale. Tanti big, tanti campioni che si contenderanno il titolo. Il primo appuntamento dell'anno 2022. Quest'anno avremo una serie di competizioni a livello nazionale e internazionale, tra cui una tappa dei Beach Soccer, il campionato italiano giovanile di Triatron, naturalmente la partenza del Giro d'Italia e poi a settembre, Dulcis in Fundo, l'Under 23, i giochi del Mediterraneo di Atletica Leggiera. Quindi Pescara si prepara ad accogliere tutte queste manifestazioni con grande imprendio, con grande passione, con grande determinazione. Quanti saranno gli atleti? Di tutta la manifestazione, perché non ci sarà solo la 35 km, circa 200. Verranno assegnati anche i titoli italiani delle categorie Master, quindi Over 35, eccetera, e anche le categorie giovanili, perché è un campionato di società di marcia.